Sono Gabri Costa ragazzi, in questo Metal Gear Solid 3, Snake Eater, il nostro protagonista Naked Snake, ha vinto il primo round contro Volgin, ma ora se guardate questo video dovete vedere la ribellione di Ocelot. Volgin gli ha detto a Ocelot di sparare, ma Ocelot non dà retta al colonnello Volgin, ha fatto una promessa a The Boss, Ocelot. Ma avete visto Volgin ha una pericolosa scarica elettrica, e Ocelot prova a sparare la sua pistola. Non vuole arrendersi Volgin. Ora vediamo se Naked Snake riuscirà a vincere un altro round contro Volgin. Ocelot li dice a Volgin combatta da uomo. Ah, sono stati rilevati gli esplosivi, tutto il personale deve evacuare immediatamente. Ripeto, sono stati rilevati gli esplosivi, tutto il personale deve evacuare immediatamente. E' strano e sto Ocelot. Ricordatevi di premere sempre R1 in certe scene, capite? In certe scene dovete premere il tasto R1. Ocelot se ne va, e così Snake può affrontare Volgin. E' pronto per un altro round. Bene, se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale.